Il fatto che esistano gli ordini è una garanzia di qualità, perché la certificazione del professionista ne abbiamo bisogno, non è sufficiente solo il titolo di laurea e quindi lo Stato ha scelto di passare attraverso questa cosa degli ordini ed è giusto che la collaborazione non sia in senso di punitivo verso i singoli, ma sia in senso certificativo, tutto stiamo cercando di certificare, anche l'ordine è parte della certificazione di qualità del sistema. E' in questa logica che noi vediamo la valorizzazione dei professionisti, delle professioni sanitarie fondamentale e in questa logica che vogliamo fare una sorta, noi chiamiamo la parola marketplace, stiamo costruendo delle esperienze che abbiamo già fatto, ma di quelle che ci stanno arrivando, un luogo dove chi ha bisogno di scoprire un'innovazione possa trovarla, possa trovare chi è il referente di quell'altra azienda e noi promuovere questi contatti e in questa maniera far crescere la capacità manageriale nelle aziende.